Siamo all'interno dell'ospedale civile di Crotone perché questo pomeriggio è stata presa di mire e aggredita una dottoressa dell'ospedale. Una dottoressa che è stata aggredita con un cacciavite e quindi gli sono stati dati dei punti alla testa, al collo e all'addome. La persona è stata subito arrestata e portata in questura. Le condizioni della dottoressa sono un po' migliorate, è stata in rianimazione fino a questo momento. Adesso è stata trasferita in reparto e dobbiamo dire che adesso c'è molta attenzione e soprattutto la necessità di fare stare tranquilla la dottoressa proprio per evitare che ci siano degli ulteriori danni. Un fatto increscioso, un fatto che ci pone di fronte a quello che succede sempre di più nell'ambito degli ospedali italiani e Crotone non è seconda a nessuno perché non dobbiamo dimenticare che qualche mese fa c'è stato un altro medico che è stato aggredito. Questa rabbia che viene scaricata sui medici non va bene, probabilmente bisogna mettere in campo una strategia difensiva proprio a tutela della vita dei medici.